Si è preso un rigore col tacco, col controllo orientato col tacco, è di uno spettacolare, guardate il sole che mi taglia proprio l'anima. Ma ci ho letto dallo stadio e vado veramente in difficoltà, perché vedere la mia città in quello stato sto male, però ne parleremo, se ne dovrà parlare. Adesso o si fa la storia o non si fa, come diceva Vasco, dai! Mamma mia, il passaggio di Kim è molto, molto rischiuso, dai! È tornato il maestro, è subito una palla interessante per Ossi. Guarda, guarda, non esce, Ossi è incredibile, Ossi è incredibile! Ah, non ce l'era, calmati, 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 è giusto. La formazione, non abbiamo preso Politano, il resto sì, Politano, da diffidato giocatitolare, un premio per la bella prestazione, Vodka il rinnovato! Rado anche sa, tanto lo sapevo, cioè, Politano proprio! Paramount Plus, io ho scelto di vedere il Napoli, che cos'è questo doppio schermo? Ho cliccato sul Napoli, non me ne frega niente di Klopp e dei compagnelli suoi! No, io vi denuncio, io vi denuncio, devo sentire il Napoli! Bravo Mario Rui! E guarda, com'entra questo! No, non reagire, Mario Rui, non reagire, ti prego! Beh, attenzione, attenzione! No, vi denuncio quanto è vero, Dio! Mannaggia la ma... Devo twittare! Carvascilia! Siamo proprio a dei live... Carvascilia! Mannaggia! Bravo, vai Mario Rui! Bravo, anch'issà! Vai, Kvara! Eccolo! Paramount Plus non era Di Lorenzo, era Politano! L'hai pure chiamato capitano, non è Di Lorenzo! Chiamma a Nats! Ello, il 2-1-2! Vai, Kvara! C'è, c'è, Ocime! Carvascilia! Carvascilia! Anch'issà! 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 Bravo, Zielinski! Dai, Kvara! Dai, che cosi che ha fatto lo spazio! E Kvara scaria! Provaci, Mario! L'avete sentito a Spalletti, ad Anghissà! Non giocare dietro sempre! Vieni largo, vieni largo! Bravo, Amir! Niente, niente! Mamma mia, mamma mia! Arbitro, arbitro! Mai, mai, mai! Al massimo, vi dico, era a fallo quello di Zielinski, che ha portato al tiro di Kvara! Ma questo di Rachmani, mai! Proprio, vedete? Proprio le traveggole! Le vedete! Mani! Bravo, Di Lorenzo! Uh, Ocì! Col colpo di petto l'hai superato! Il colpo di petto a seguire è Ocimele! Bravo, Politano! Ehi, vai, Ocì! Uh, è buono! Non ti ferma! Bravo, Mario Rui! Ehi, il buco! Mamerette! Mamerette! Uh, Lobotka! Ah, brutto fallo su Di Lorenzo! Bravo, Lobo! Uh! Un curtiere! Kim! 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 Troppo ho preso un duo! Curi palì, proprio! E Lobo se ne è andato in mezzo a tre! Ah, niente! Uh, schifo! Schifissimo! Schifissimo! Mamma mia, Gielis, chi magia! E quasi magia, Gielu! Kvara, Kvara, Kvara! Il tiro! Camarate, chi stai? Bravo, capitano! Vai, Politano! Vai, capitano! Non c'è nessuno in avia! Uh, l'altra parte è bella! Bravo! No, bravo! L'intelligenza è di... Bel passaggio! Non ci è arrivato, ma bel passaggio! Bravo, Lobotka! Che spettacolo! Politano col destro! Controchiamo! Oh, Simen! Il più bel goal della storia! Non è che ogni goal è il più bello della storia! Però questo è molto bello! È molto bello! Perché il passaggio di Lobotka di esterno è un gioiello! Politano che ci pensa e dice... Valerio Fluido mi ha chiesto di fare il cross con il destro e glielo faccio! Morbido, morbido! Vediamo quanto è rimasto in alto in volo, Simen, perché è un grandissimo goal! No, eh, ragazzi... La bellezza dei colpi di testa così, indirizzato a pallonea, è bellissimo! Solo lui poteva fare sto goal! E a questo punto lasciatemi like, perché se si fa la storia ci vuole la storia dei like! Si deve superare i 3.000! No, mi dispiace, ma si devono superare i 3.000 like! Vai! Dai, amici bellini, mica è finita! Dai! Bellissimo! Sì, mamma mia, la tecnica! Bravo, Politano col destro! Cavara! Meret! Meret! Meret, Meret! Bravo, Kim! Mamma mia, tira a porta di sinistro! Vai! Vai! Fino in fondo! Puta! La bioscina di Sielis! Dai, 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 Poli! Adesso rientra, ma c'è... Di Lorenzo! Chi la prende? Lo bocca! Vai, Di Lorenzo! Oh, Simen! No, si è fatto malta! No, 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 no! L'esultanza in gola, l'esultanza in gola, no! Scarpassiato! Cavara solo con tutta la difesa! L'ho visto già! Beh, Loppo è... Loppo è qualche cosa di... Bello! Ah, che peccato! Oh, sì! Colpo di testa! Se la porta avanti con la testa! Non era fuori gioco qua! Meret! Era fuori gioco proprio netto! Si vedeva! Parata di Meret! Non vale, ma vale! Uh, Cavara! Dammi, dammi! 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 Ah, troppo! Dammi, dimmi! Dammi e comandami! Dammi è la finta in inglese! Dammi! Uh! Ha fatto arrovesciato! Uh, personaggio! Spalletti, le sostituzioni adesso! Politano, Kim, che sono diffidati fuori! Eo Simen per Simeone! Dai! Bravo, Politano! Bravo, Di Lorenzo! Ma come giochiamo bene! In scioltezza! Vai, Osi! Bello! Uh! Bello, Zielu! Ancora che vada! Maroli di Lorenzo! Oh! Urivo! Bravo, Zielinski! Bravo, Zielinski! Abituiamoci a tirare i rigori! Si è preso il rigore col tacco, col controllo orientato col tacco, è di uno spettacolare! Guardate il sole che mi taglia proprio l'anima! Aiii! E con il numero 20, Piotr Zielinski! Centrale, se non sbaglio, vediamo! Centrale! Un rigore bruttissimo che lo stava per prendere con la gambe! Però il rigore centrale ha le volte! Ma voi lo vedete, Zielinski, come sul 3-0 ha pressata! Ma che bellezza! Spalletti, carne, spalletti! Esatto! Anche qua! Grande, grande! Lo sapevo! Osi, man! Allora, ragazzi, in mezzo a 40 di loro! Mi sono stato un po' zitto perché per 10 minuti c'è stato controllo ragionato! Osi ha fatto una partita di raccordo venendo incontro, ma alla grande proprio! Ah, forse fuori gioco! Eh, beh, vedi? Eh, 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 eh! Non è vero questa volta! Forse no! Wow! Ci ha dato un cartellino giallo, Chris, proprio da fenomeno proprio! Un fenomeno! Metti che la dava a Kim per una cosa che uno non fa! Eh, ui! Eh, bravo capitano! Mamma mia! Come sei bravo! Eh, fatelo riposare! Bel gesto di Spalletti che chiede scusa, eh, all'altro allenatore perché non abbiamo buttato il pallone! Bravo! Jesus e bravo Meret! Clean deve essere lo shit! Clean! Shit! Bravo Lozzano! Uh, si stanno imbappinando! E con Yolet noi chiudiamo perché lo stadio se lo merita, il Napoli se lo merita, questi giocatori... Guarda! 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 Don't believe! Wow! Roba incredibile! Ehm... E like! 3000! Non mi interessa! Si è fatto la storia! I like non sono per me questa volta, sono per questi giocatori che mi hanno dimostrato la voglia di sputare sudore fino alla fine di tutto! l'avete in bandaggio, 3 gol, si sputa sudore! Ne parliamo pure live, però per poco poco! Dai! Da New York, Valerio Furdone è importante! Sembra una parrucca, eh? Ma non è vero! Perché vedi cambia... Ah... Io me li fai... Sono... No! Sono Saveria Soli! Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti! Di cortesia! Perché questo è l'anno! Avete la facciata di like! Niente più! Dai! Basta! Basta! Sei cringe! Quante cose!